Complessivamente di 12,4 milioni di euro lo stanziamento da parte della Giunta della Regione Campania per interventi che riguardano la messa in sicurezza della viabilità sulle strade della provincia di Salerno. Di questi, 7 milioni e 200 mila euro andranno per la ricostruzione e il consolidamento del viadotto di Agropoli. È una scelta che testimonia ancora una volta la vicinanza di questa amministrazione alle comunità locali ed in particolare al Cilento, dice l'assessore alla difesa del suolo e protezione civile della Regione, Edoardo Cosenza. La Regione ancora una volta interviene per sussidiarietà nei confronti della provincia in base ad una programmazione avviata con l'ex assessore provinciale ai lavori pubblici Attilo Pierro e proseguita con l'attuale presidente Giuseppe Canfora. La completa riattivazione del viadotto di Agropoli sicuramente è una delle opere più attese dall'intera comunità cilentana. Ad un anno e mezzo e più dal cedimento di un pilone che ha reso impraticabile l'arteria si apre quindi uno spiraglio con la speranza che al più presto partino i lavori di consolidamento e la successiva riattivazione. Tra le altre opere, comprese nel finanziamento fatto mediando i fondi del Port First 2007-2013, le seguenti strade provinciali. 430 nei comuni di Agropoli, Vallo della Lucania, Celle di Bulgaria, strada provinciale 61 nel comune di Castellabate, la 19 e la 62 nei comuni di Rocca Glorosa e Torrorsai, la 66 tra Camerota, Ricusati e l'ex strada statale 562, la strada provinciale 48 nel comune di Pollica, quella 164 a Monte Corvino e Novella, la 93 tra Rofrano e Alfano, la 13 dal comune di Stio e Cilento a Magliano Vetere fino a Monteforte e Cilento. Grazie a tutti.